Benvenuti nella Galassia Rattics, eccoci qui, appassionati di moto, pronti a parlare della leggendaria Honda CRF450. Questo motard è un vero gioiello su due ruote, anche se usato, è in condizioni impeccabili. Dotata di un potente motore monocilindrico da 450 cm3, è stata immatricolata nel settembre del 2020 e ha percorso solamente 5.900 km, tutti certificati. Honda CRF450 offre una potenza straordinaria e una maneggevolezza senza paragoni, perfetta per chi ama il brivido della velocità e dell'avventura. E ora la domanda che tutti vi starete facendo, dove potete trovare questa moto da sogno? Semplice, visitate il sito motorattics.it per scoprire di più su questa e altre offerte esclusive.